Un saluto a tutti i videascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio di rara importanza dal titolo Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella società scristiana secoli nono tredicesimo a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D'Accunto e Elisabetta Filippini appena pubblicato da Vite e Pensiero. E noi abbiamo il grande piacere di avere con noi un ospite che ogni volta accogliamo proprio con entusiasmo perché si tratta di Nicolangelo D'Accunto al quale io come mia abitudine non rubo tempo perché ci possa parlare di questo saggio. Prego Nico, a te. Molte grazie caro Maurizio, cari amici di Italia Medievale. È sempre un grande piacere per me intervenire nelle vostre iniziative e di contattarvi attraverso i metodi e gli strumenti consueti che ci sono riservati. Ebbene, attraverso questi metodi diciamo di diffusione elettronica e online non riusciamo a essere presenti anche quando siamo assenti. Il tema del nostro libro è esattamente questo, come rendere presente l'assente nel Medioevo. Allora dobbiamo fare un po' di riprecisazioni. Si tratta degli atti della settimana della Mendola che sono un luogo necessario della medievistica europea dal 1959. È un grande convegno organizzato da Cinzio Violante per la prima volta e da Cosimo Damiano Fonseca appunto nel 1959 quando Violante insegnava la cattolica a Milano e prendono il nome dal passo della Mendola, in montagna, siamo in Alto Adige, Mendel Passa si chiama anche, infatti ha un nome anche tedesco, e nel passo della Mendola era diventato la sede, una delle sedi necessarie come il convegno di Spoleto, come il convegno di Todi, che riguardavano quello di Spoleto l'Alto Medioevo, quello di Todi sempre più il Tardo Medioevo, e aveva lasciato in mezzo i secoli XI e XII come spanna cronologica di elezione per questo convegno che appunto riempiva un voto significativo per la medievistica italiana ed europea. Ora questo convegno non si celebra più al passo della Mendola, lo celebriamo pur conservando il nome, presso la sede dell'Università Cattolica di Brescia, in quanto è diventato una delle iniziative, anzi l'iniziativa di punta del Centro di Studi per la Storia degli Insediamenti Monastici Europei dell'Università Cattolica, che ha sede per l'appunto nella sede bresciana della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ora questo convegno quindi si occupa di un tema che è quello della istituzionalità, della dimensione istituzionale, che costituisce diremmo uno dei cardini della proposta metodologica della storiografia della Mendola. Innanzitutto dobbiamo dire che non si trattava di un convegno ad uso interno della medievistica cattolica o cristiana, che dir si voglia. Non è nemmeno un convegno ad uso interno della medievistica europea, perché fin dall'inizio questi convegni venivano usati, venivano appunto pensati come luogo di incontro tra tradizioni storiografiche, culturali diversissime, come luogo di incontro tra storiografie che la Seconda Guerra Mondiale aveva messo, diciamo pure, una contro l'altra, proprio perché si trattava anche di uno scontro ideologico, quello che si era mosso appunto tra alcuni paesi e altri, il blocco appunto di quelli che sarebbero stati gli alleati e i nazifascisti. Ora, queste storiografie avevano preso strade profondamente divergenti, cioè uno storico come Violante che appunto rivedeva nella sua propria esperienza di uomo che aveva combattuto la Seconda Guerra Mondiale, la frattura che già Henri Pirenne aveva visto nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, le settimane della Mendola servivano a riportare un clima di collaborazione tra le diverse storiografie e sempre più si orientarono verso l'analisi di una struttura, la societas cristiana, che era un po' difficile da maneggiare, perché se inizialmente si era partiti con l'idea che esistesse, almeno nei secoli XI e XII, questo organismo che in qualche modo riuniva tutta la cristianità, a prescindere dalle differenze politiche, a prescindere dalle differenze territoriali, dei grandi quadri che si andavano delineando ciascuno per conto proprio nelle storiografie nazionali, ecco in realtà poi questo strumento è diventato sempre più difficile. E devo confessarvi che io continuo a usare questa espressione della societas cristiana con la consapevolezza della sua scassa descrittività, proprio a causa dell'evoluzione forte che c'è stata attorno agli studi su questa struttura. no? Infatti il tema della societas cristiana dura fino ad un certo punto nei titoli, poi viene interrotto, proprio perché ci si accorge che questo monolite della societas cristiana in realtà non esisteva. E sempre più le settimane della Mendolo avevano contribuito a ristrutturare questa idea di una societas cristiana. Allora se devo dire, quindi c'era stata una pausa molto lunga determinata dall'eclissi, dalla morte di Violante nel 2001 e diciamo che per un buon decennio, per tutti gli anni 90, fino al 2004, non si era parlato più di societas cristiana nei titoli della Mendola. proprio perché c'era questa insoddisfazione progressiva per questa concezione unitaria e globalizzante della storia dell'Occidente nei secoli XI e XII. Direi che il ritorno di questa espressione nel 2004 coincide con l'avvento di una sorta di terza fase nella storia di questo convegno che prima o poi bisognerà scrivere, e cioè con il ritorno, con l'arrivo alla guida di queste settimane di Giancarlo Andenna, che con l'aiuto di Gert Melville e della scuola di Dresda ripensava un altro dei cardini della storia della Mendola, e cioè l'istituzionalità, la dimensione istituzionale. Diciamo che originariamente queste istituzioni della societas cristiana erano state studiate in una prospettiva, ma si pensava tutto sommato abbastanza tradizionale, e invece la scoperta dirompente che veniva da queste settimane era che queste istituzioni innanzitutto non si potevano contrapporre alla spiritualità. Questa era una delle lezioni principali di Violante, ma che non si poteva parlare di istituzioni prive di una spiritualità, in qualche modo di un fondamento ideale, e contrapposte appunto alla spiritualità. Le istituzioni, così come escono dalla Mendola, sono, attraverso l'ecclesiologia, poste appunto come luogo liminare da queste due dimensioni, la dimensione che oggi chiamiamo carismatica, e la dimensione giuridica. Ebbene, questa lezione di Violante sulla istituzionalità viene per qualche, appunto per tutti gli anni 90, messa un po' tra parentesi, e con Andenna invece nel 2004 torna a campeggiare nel titolo del volume, che si occupa appunto della dimensione istituzionalità nel Medioevo, proprio perché la scuola di Violante che attraverso Andenna aveva incontrato in Melville la scuola di Dresda in cui si parlava di istituzionalità. Che cosa significa? Cercando di capire come al di là della dimensione giuridica le istituzioni avessero anche una dimensione comunicativa. Questa era la grande novità introdotta da Melville e il matrimonio tra queste due storiografie non poteva che essere un matrimonio felice e fecondo. Ecco dunque che questa nostra settimana si colloca nel solco di questo rinnovamento tematico, della tematica della istituzionalità, nel senso che cerchiamo di capire come funzionano le istituzioni nei loro a priori, potremmo quasi dire. E allora diciamo che il tema presenza-assenza lo chiariamo bene anche attraverso il testo che apre questo volume, cioè la relazione proprio di Gert Melville, che si chiede se l'istituzionalità crei o no una presenza fittizia. Cioè, in definitiva, attraverso le istituzioni si crea una presenza fittizia. L'assente diventa presente. E quando questo accade? Con quali modalità? Nel Medioevo, e noi abbiamo significativamente allargato la forbice cronologica dal IX al XIII secolo. Come fanno a rendersi presenti quando non sono presenti, quando sono assenti? È un tema questo che all'improvviso è diventato molto, molto attuale. Il convegno era stato celebrato prima della pandemia, nel 2019, e durante la pandemia questo tema della presenza-assenza è diventato di grandissima attualità. Perché? Perché abbiamo scoperto, per esempio, che tanti non vanno, ovviamente non potendo andare alla messa fisicamente, in quanto le chiese erano chiuse, partecipavano attraverso la televisione. E quindi erano presenti dove invece erano in realtà assenti, con una modalità nuova. pensiamo a un altro tema, della presenza dell'assente, il docente, io stesso, o tutti i docenti di qualunque scuola, di ogni ordine e grado, che durante i mesi del cosiddetto lockdown, della chiusura delle scuole, hanno continuato a essere presenti con degli strumenti nuovi. pensiamo alle forme, appunto, mille forme, attraverso le quali siamo riusciti ad ottenere le mille riunioni che ciascuno di noi ha potuto fare, i convegni che abbiamo celebrato, restando ciascuno a casa propria e usando lo stesso strumento che sto usando adesso per parlare con voi. Siamo quindi diventati presenti pur essendo assenti e abbiamo scoperto, purtroppo, sulla nostra pelle che le grandi trasformazioni, i grandi shock della storia anche, sono contrassegnati da trasformazioni profonde delle modalità con cui si rende presente l'assente. Quindi non è un discorso casuale questo, nel senso che noi stessi abbiamo potuto sperimentare come nelle grandi fasi di passaggio, ne abbiamo vissuta una, ne stiamo vivendo tuttora, alcuni processi che erano già in corso subiscono un'accelerazione. Vi faccio un esempio banale, no? Tutti noi potevamo già fare lezioni da remoto con le strumentazioni informatiche in dotazione all'Università Cattolica e a tutte le altre università, naturalmente. Ma quando è stato necessario abbiamo dovuto imparare immediatamente a usare queste tecnologie che fino a quel momento avevano un uso molto ridotto. Tutti ce l'avevamo, ma nessuno se ne era nemmeno accorto. E tranne rari casi era difficilissimo fare delle riunioni su Meet, su Teams, su piattaforme varie, su Blackboard, eccetera. E abbiamo qui una prima lezione che abbiamo tratto dall'attualità e che possiamo verificare anche per i secoli di cui ci occupiamo nel volume. E cioè che questi momenti di svolta nella storia costituiscono l'accelerazione, provocano, determinano l'accelerazione di processi già in corso. O comunque determinano una selezione degli strumenti che vengono impiegati in tempo reale proprio a queste nuove esigenze che di volta in volta l'attualità presenta. Allora, il rischio di avere un libro come questo è quello di diventare un libro di sociologia. Quindi noi entriamo nei meccanismi dell'istituzionalità e cerchiamo di capire, vi ho appena enunciato un principio che potremmo definire di natura sociologica, no? Questo che è lo shock è un acceleratore di innovazione. E vale per il X secolo come per il XXI. Ecco, invece noi abbiamo voluto scrivere un libro di storia. Perché? Perché il compito dello storico è di capire attraverso la periodizzazione come questo particolarissimo angolo visuale consente di incrociare i temi fondamentali, i problemi fondamentali di un'epoca e di fissare delle cronologie. Noi siamo abituati a pensare il Medioevo come qualcosa che dividiamo in alto e basso Medioevo con l'undicesimo secolo come secolo cuscinetto tra questi due periodi. Noi italiani, perché per esempio in Germania e in Inghilterra hanno una periodizzazione di tipo tripartito diversa dalla nostra. Ma naturalmente le periodizzazioni sono invenzioni umane. Quindi sono degli strumenti culturali che servono a mettere ordine nel fluire degli avvenimenti, a capirci qualcosa. Ebbene, se dovessi stabilire sulla base di questo libro quali sono i due grandi momenti su cui disegnare una nuova periodizzazione, io fisserei l'undicesimo secolo e il tredicesimo secolo come momenti di frattura profonda di questa ridefinizione degli strumenti concettuali e delle forme attraverso le quali realizzare la presenza dell'assente. Ma cerchiamo di capire un po' più nel concreto di che cosa ci siamo occupati in questo volume. C'è per esempio l'episodio, un episodio famoso nei rapporti, nella vicenda, nella storia dei rapporti tra Federico Barbarossa e i comuni italiani, le città italiane. è un episodio famoso in cui Federico Barbarossa invia una lettera e coloro che ricevono questa lettera la strappano e si accaniscono non contro chi ha portato la lettera, ma si accaniscono contro il testo, nella sua materialità. Ma perché si accaniscono così tanto sulla lettera? Ma perché alla lettera, a questa altezza cronologica, si conferisce la capacità di rendere presente con grande pregnanza chi è assente. Quindi è come se tu avessi davanti la persona quando tu prendi in mano o un diploma imperiale o una lettera dell'imperatore. Stracciarla, profanarla, buttarla per terra, calpestarla, significa calpestare l'onor, la dignità dell'imperatore come se lui fosse lì. Ecco, noi questa concezione non ce l'abbiamo. Se anche riceviamo la lettera del Presidente della Repubblica non commettiamo nessun reato se la stracciamo o la buttiamo nel cestino. È comunque una lettera di un'autorità che merita rispetto ma che non è presente fisicamente. E quindi già qui vediamo una differenza profonda nel modo in cui noi intendiamo la lettera e i documenti con la loro capacità di comunicare e quindi di rendere presente l'assente. Quindi non è un convegno sulla comunicazione, non sono queste relazioni, non si riferiscono questi saggi alla comunicazione, perché qui stiamo entrando negli a priori della comunicazione, in qualcosa che viene prima della comunicazione. E l'istituzionalità genera e si serve di strumenti di volta in volta differenti a seconda delle epoche. Per esempio, questo della lettera è solo un esempio per rendere presente l'assente, ma se andiamo a prendere un'altra fonte medievale come i libri vite, cioè sono dei libri su cui nell'Alto Medioevo si segnano i nomi dei benefattori, dei monaci che vivono in una certa comunità, dei monaci delle comunità che sono legate al monastero, c'è una specie di grande internazionale della preghiera, attraverso lo scambio di liste con scritti di centinaia e centinaia di nomi. Questo ce l'abbiamo. In Italia un solo esemplare è sopravvissuto, che è quello di Santa Giulia di Brescia. Ma diversi monasteri alto medievali hanno queste liste, in cui sono segnati i vivi e i morti. E il solo fatto che durante la liturgia si metta questo libro con i nomi dei vivi e dei morti sull'altare, li rende presenti lì. Così come sono presenti i martiri o i santi di cui abbiamo le reliquie sotto l'altare. E quindi il monastero, attraverso questi meccanismi, rende presenti i vivi e i morti allo stesso modo. I vicini e i lontani, i vivi e i morti, conferendo al libro, nella sua materialità e al suo essere messo sull'altare, nel bel mezzo della Chiesa, una capacità di generare presenza che noi non abbiamo, per esempio. Ecco, tutto questo cambia nel corso dei secoli, perché vediamo il tramonto di questa modalità di registrazione, a mano a mano che ci inoltriamo nell'undicesimo secolo. E cambiano gli strumenti per ricordare i defunti e per rimarcare questa compresenza di vivi e morti. Quindi entrare nelle trasformazioni che subiscono questi strumenti significa cercare di capire come funzionano le istituzioni. Il grande problema del potere è l'assenza. Come si fa a governare un impero nell'undicesimo secolo, nel dodicesimo secolo, grande come più della metà dell'Europa di oggi, nelle condizioni di comunicazione che troviamo nell'undicesimo secolo? Ecco, occorrono degli strumenti per rendersi presenti. Uno è l'itineranza, cioè l'imperatore circola di continuo per essere presente, per curare quella che definisce la absenzia regis. Quindi più che sulla presenza sul territorio di mediatori, sempre più il sovrano affida alla sua presenza fisica, la tenuta dell'impero o dei vari regni. Con i risultati, ovviamente, di non riuscire poi a garantire un effettivo funzionamento, almeno se valutiamo queste strutture politiche sulla base dei livelli di efficienza che hanno gli stati moderni. Ma un altro problema che è stato l'altro grande ambito in cui si applicano questo genere di ricerca è la Chiesa. Le grandi fratture nella storia della teologia eucaristica, e cioè quando si cerca di capire in che misura e con quali modalità il Cristo è presente nell'eucaristia, coincidono con le grandi fratture istituzionali della storia della Chiesa. Il Dio assente che è reso presente diventa oggetto di dibattito nel IX secolo, nell'età carolingia, nell'undicesimo secolo con la riforma ecclesiastica e ancora al tempo di Innocenzo III. Le tre grandi fratture nella storia della teologia eucaristica segnano, le grandi fratture sono contemporanee delle grandi fratture della storia della Chiesa, dei grandi momenti di svolta della storia della Chiesa, che ha al suo interno un altro problema. Per esempio un tema tipico è quello della giustificazione della messa degli eremiti che vivono da soli. Può un prete dire il Signore sia con voi se è chiuso nella sua cella? In che misura un prete può dire il Signore sia con voi se non c'è nessuno? Ecco, nel decreto Umburcardi questa possibilità viene negata. Qualche decennio dopo, siamo intorno al 1050, Pier Damiani invece dice che no, l'eremita può dire il Signore sia con voi quando prega e quando dice la messa, perché dentro la sua cella non c'è solo lui, ma c'è la Chiesa presente misticamente. E allora vedete che tutte queste trasformazioni si riflettono poi anche sull'organizzazione ecclesiastica. Quindi si parte dal livello simbolico e questa possibilità di rendere presente l'assente incide anche sui funzionamenti delle istituzioni che hanno come compito specifico quello di rendere presente l'assente in un sistema comunicativo estremamente rischioso. Per cui diciamo che in questo libro cerchiamo di allargare la casistica il più possibile. Per esempio la presenza del Santo, la sostituibilità del corpo del Papa. Il Papa diventa sempre meno necessario come presenza del singolo Papa perché si generano dei doppioni, i legati per esempio. Nell'undicesimo secolo, ancora una volta, il potere del Papa può essere rappresentato da un legato che addirittura si veste come il Papa. Va nelle assemblee e parlare con lui è come parlare col Papa. Quindi il Papa invia questi cardinali in tutta la cristianità ed è questo un modo di sostituire la persona del Papa, pensate. Ecco, questo sta all'origine poi del sistema delle relazioni diplomatiche degli stati moderni che vengono sperimentati dalla Curia Romana sulla base di una tradizione di origine antica ma che certamente viene riattualizzata appunto dal Papato. Per esempio, in che modo la possessione diabolica viene percepita? Quali sono le novità sulla possessione demoniaca? Anche qui è un modo per trasmettere la presenza non di Dio in questo caso ma la presenza del demonio. Ecco, c'è Luigi Canetti che è un grande esperto di questi temi che offre un tema veramente un saggio notevolissimo da questo punto di vista. Così come la presenza assenza nella mistica. In che modo? C'era soltanto una mistica irrazionale priva di coscienza o c'erano dei tentativi e lo illustra bene un saggio dei tentativi di vivere la mistica in una dimensione più razionale in qualche misura sembrerebbe uno simoro se vogliamo, no? Però nel XIII secolo nei monasteri c'è anche questo. Non c'è soltanto la mistica di chi vive una fase di trance, no? Ma c'era anche una mistica razionale per rendere ancora una volta presente l'assente. Allo stesso modo l'assenza della donna amata nella poesia dei trovatori. È uno dei grandi temi della poesia trovatorica, no? Amor su terra londana, no? Ecco. In che misura? Quindi questa tematica influisce sulla poesia dei trovatori. Quindi se andiamo a vedere abbiamo moltissime prospettive e quasi sempre però appunto non vogliamo fare... cioè si riesce a trovare una, come dire, una cronologia di questi fenomeni con le grandi scansioni che vi ho detto e questo consente di rileggere in qualche modo la storia medievale con occhi nuovi, una prospettiva nuova perché le istituzioni diventano diventano qualcosa di dirompente con i loro linguaggi. Pensate Bonifacio VIII viene accusato di idolatria perché mette le sue statue dappertutto. Cioè che c'entra l'idolatria? E lo capiamo soltanto alla luce della concezione che vi dicevo prima dell'opera d'arte cioè che è in grado... L'immagine, non soltanto il libro, non soltanto il diploma o la lettera ma soprattutto l'opera d'arte sono in grado di generare la presenza di chi rappresentano in particolare della divinità. E Bonifacio VIII viene accusato di idolatria perché usa molto le sue immagini e questo viene considerato un rompere il codice della comunicazione che è riservata soltanto a Dio. Si rappresenta soltanto il divino non la persona del Papa. Ecco, questa divinizzazione di Bonifacio VIII che ha messo le sue statue dappertutto le sue facce dappertutto mi sembra proprio uno di quei temi che rendono comprensibile quello di cui vi sto parlando. Quindi questo rapporto tra la presenza e l'assenza molto contestualizzato con una messe veramente enorme di casi e di cronologie che si possono tracciare per riscoprire appunto questa stringa cronologica del IX-XIII secolo fondamentale per il nostro Medioevo. è un saggio davvero profondo mi viene da dire ma non dico altro perché poi bisogna acquistarlo per poterlo apprezzare in tutta la sua importanza. Io allora ripeto il titolo presenza, assenza meccanismi dell'istituzionalità nella società scristiana secoli IX-XIII a cura di Guido Cariboni Nicolangelo D'Acunto e Elisabetta Filippini pubblicato da Vite e Pensiero che io vi invito di acquistare nonostante l'imponenza e anche il costo non proprio alla portata di tutti ma se volete farvi un'idea di un tema davvero dirompente e soprattutto di un periodo quello centrale del Medioevo come siamo abituati a concepirlo noi in Italia non potete non averlo quindi questo è il consiglio che mi sento di dare insieme io ringrazio tantissimo Nicolangelo D'Acunto per avercene parlato vi ricordo di seguirci sempre sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete anche queste videopresentazioni insieme a tutte quelle che abbiamo realizzato in questo interminabile anno e mezzo e più di pandemia per cercare di tenervi comunque informati e aggiornati sulla produzione letteraria a tema medievale quindi grazie ancora Nico e a presto un inizio e un caro saluto a tutti arrivederci a presto 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 a presto